Con la rubrica Il mio lavoro spiegato a mia nonna facciamo servizio pubblico, cioè cerchiamo di spiegare in parole accessibili i mestieri legati al digitale, quelli che hanno dei nomi particolari. E allora oggi scopriamo che cosa fa un Data Steward. Un Data Steward è il responsabile della qualità e della gestione delle informazioni memorizzate da un'azienda. Ha il compito di conoscere per ognuna di queste informazioni da dove è stata raccolta, come è stata memorizzata e per quanto tempo deve rimanere disponibile, con un'attenzione particolare alla sicurezza, all'etica e alla privacy. Lo scopo è quello di aiutare l'azienda ad analizzare la sua attività e a realizzare delle previsioni affidabili per migliorare le sue performance operative e finanziarie. Io sono Data Steward per le operazioni di terra della compagnia aerea Air France KLM e lavoro con tutte le informazioni che passano nei nostri sistemi, da quando un aereo atterra fino a che decolla. Passeggeri, bagagli, merci, attività attorno all'aereo come la pulizia, il riferimento, il carico della stiva. Tutto per un solo semplice obiettivo, far partire i nostri voli in orario. Non ho mai usato finora la parola dato. Una delle sfide principali del mio mestiere è quello di individuare l'informazione con la migliore prospettiva di diventare un dato utile. Dato è un participio passato, è un'analisi di quello che è successo. Noi raccogliamo le migliori prospettive del presente in movimento per farle poi osservare da infiniti punti di vista, magari chiarendo il passato e, quando possibile, provando a predire il futuro. Con tutto quello che raccogliamo alimentiamo un lago di informazioni, come si chiama in gerco tecnico un data lake. Usiamo software di visualizzazione e aggregazione dati che ci aiutano, proprio come delle canne da pesca, a ripescare e a controllare la qualità delle informazioni da questo lago. Due altri strumenti sono indispensati. La conoscenza approfondita dei processi dell'azienda è una buona dose di curiosità per cercare là dove nessuno ancora aveva mai pensato di trovare qualcosa di utile.